Buongiorno, questa linea prevista che l'instabilità tornasse di nuovo anche sulla penisola dopo aver interessato soprattutto le regioni di nord ovest nei giorni scorsi, ieri ha fatto un passo piuttosto deciso. Sono soltanto le 14, quindi siamo proprio a metà giornata. Guardate già quanti temporali ci sono non soltanto sulle zone di nord ovest, sulla Liguria, però guardate Liguria di Levante, la Corsica quasi completamente coperta di temporali, la Toscana anche sulla parte meridionale, il Lazio, il confine con l'Abruzzo e poi qualcuno sulla Svizzera, sulla Francia e ripeto sono soltanto le 14. Guardate nel giro di un'ora e mezza alle 15.30 che cosa succede, cioè esplodono questi temporali veramente, guardate che zona di temporali che prende il medio Tirreno e poi altre zone del nord, la Francia, i Pirenei, di nuovo qualche zona interna della Francia, mentre pochissimo interessa all'Europa orientale. Quindi la zona proprio critica dal punto di vista dell'instabilità è questa, a questo punto dell'Europa centro-occidentale, ma diciamo Italia, Mediterraneo, centro-settentrionale, Francia e Spagna. Poi il ciclo è sempre quello consueto, si espandono questi temporali, verso sera si cominciano a ridurre e questa mattina ce n'è qualcuno ancora che è rimasto da questa riduzione drastica che c'è durante la notte, durante la sera, alla notte, alle prime ore del mattino. Non soltanto qualcuno sulla Spagna, ma guardate ancora insistono i temporali proprio sulla Corsica, che è un po' nel mirino, avevamo detto difficile stabilire se fai temporali in Corsica, sia in Sardegna, no. Ieri in Sardegna ne ha fatti pochissimi e in Corsica tantissimi, alla fine parliamo di 100 chilometri, però non è difficile entrare in questo dettaglio. Qualcuno ancora sull'Alta Toscana, sulla Liguria si stanno spostando verso il mare, insomma vediamo anche le nuvole, ovviamente collegate con questa situazione, non sono molte, la zona bianca vicino alla Corsica si vede bene, qualche macchietta bianca sull'Alta Toscana e poi vedete che intorno non ci sono corpi nuvolosi, quindi tutto questo maltempo temporaneo che c'è nel pomeriggio è cosa che si forma sul posto, non sono perturbazioni che arrivano e questo l'abbiamo visto ben chiaramente anche nei giorni scorsi. Vediamo allora a questo punto la previsione per la giornata di oggi, il ritorno di questa instabilità su tutta la penisola con una certa preferenza di questi fenomeni, sicuramente sulle zone interne montuose ma un pochino più verso il versante tirrenico, e questo fino a sud ha anche in Sicilia, almeno sulla parte orientale, di nuovo indicati i fenomeni sulle zone interne per Corsica e Sardegna e i temporali che pensiamo ci saranno in maniera un po' più diffusa oggi, con una zona un po' più leggera, leggermente protetta, le pianure venete, la Romagna, insomma quella è la zona in cui ci potrebbero essere meno fenomeni, ma l'instabilità è comunque ben presente nella nostra previsione. I venti invece questi sono tranquilli perché nonostante tutto siamo in una zona di alta pressione, la circolazione, come si dice, i venti sono deboli, quindi settentrionali con una certa tendenza a essere settentrionali o variabili, il cerchietto, diciamo che lungo le coste prevale il regime della brezza, dal mare durante il metà giornata pomeriggio verso la terra e poi invece dalla terra verso il mare durante la notte. Cosa succede nel fine settimana? Si attenua un po' di nuovo questa instabilità, quindi c'è un po' un su e giù veramente, per quello che riguarda la giornata di sabato, ancora indicati i fenomeni sull'Europa centrale, ma sicuramente meno, un po' più presenti sull'Appennino meridionale fino alla Calabria, fino in fondo alla Calabria, quindi più sul versante tirrenico, sicuramente che su quello adriatico, e poi i fenomeni sulle zone alpine, non indicati i temporali ma le piogge, questo ha significato proprio l'attenuazione dell'intensità di questi fenomeni, poi qualche temporale sicuramente c'è, però tendono a prevalere, il piogge o il rovescio rispetto ai temporali. Nella giornata di domenica ancora un po' meglio, perché si crea una specie di frattura, una fascia sull'Italia centrale, in cui gli annuvolamenti ci sono ma le precipitazioni no, e separa la parte più settentrionale, quindi le Alpi, anche il nord-est, che poi forse lunedì potrebbe avere qualcosa in più, però vedete che c'è il simbolo col sole che si affaccia, perché la mattina i fenomeni non ce ne sono, nel pomeriggio sì, e ancora una volta Campania, Basilicata, Calabria possono avere qualche rovescio nel pomeriggio. Il tutto, non vi faccio vedere le carte perché sicuramente ho fatto tardi, senza grandi variazioni della temperatura che si mantiene su valori, tutto sommato più che accettabili per la stagione.